Samuele Trudaio, un paio di interventi, forse più di due, che sono stati risolutivi in questa gara difficile che il tempo ha portato a casa, però Iglesias è davvero un avversario tosto. Sì, non me l'aspettavo fosse una squadra così tosta, invece si sono fatti vedere bene, diciamo. Io ho fatto il possibile, sono riuscito a tenere il risultato inviolato. Beh, anche dopo il gol del vantaggio però, insomma, si è dovuto intervenire in un paio d'occasioni. Sì, sì. E nulla, sono riuscito a tenere il risultato. Dici una cosa, il primo intervento è stato poi, diciamo, il tuo esordio, no? In questa stagione, il primo intervento è tolto il pallone dal 7, come ti sei sentito? Bello, è stato bello perché sentire le urla dei tifosi incoraggiarmi ancora di più mi ha casato. Infatti si è visto dagli interventi successivi, insomma. Quindi diciamo che l'umore è cambiato notevolmente, c'è stato questo switch positivo. Abbiamo detto Iglesias, squadra tosta, però è un tempio che si sta facendo valere già dalla prima partita. Sì, siamo una squadra giovane, però ci facciamo valere, diciamo. Che gruppo è questo? Come lo vedi? Ho un bellissimo gruppo, mi trovo benissimo con tutti i compagni di squadra e anche con il portiere. Con Simone Dabroska che è stato portiere durante la Coppa Italia, insomma. C'è una bella competizione tra di voi? Sì. E allora, grandi complimenti a Simone Trudaio per questo esordio in campionato con la maglia del Tempi. Grazie.